Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello? Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio. Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono ficchi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore Continuiamo ad ascoltare il discorso della pianura, i detti di Gesù. Sono parole anche forti, perché ci richiamano a cosa? A guardarci dentro, a guardare nel cuore. Gesù invita a fare verità, verità in noi stessi, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Ecco, è quella l'idea. L'idea è guarda prima dentro te stesso, poi potrai andare anche a correggere il tuo fratello. È giusta la correzione fraterna, ma la correzione fraterna che non si usa tanto nei nostri ambienti, perché magari preferiamo la critica dietro le spalle, perché preferiamo sottolineare i difetti degli altri. Ecco, Gesù ci dice, prima guarda dentro di te, guarda il tuo cuore, guarda il tuo comportamento e guarda anche, ci dà un criterio molto concreto, le tue parole. Il Vangelo di oggi finisce l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, la bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Come sono le nostre parole? Sono parole costruttive, sono parole di bene, sono parole di speranza, sono parole che guariscono, o sono parole che dividono, sono parole che seminano il male, che distruggono, che criticano in maniera solo distruttiva. Ecco, Gesù ci invita a riflettere su questo. E l'altro criterio per capire dove stiamo andando, uno è quello che diciamo, e l'altro i frutti che portiamo, che frutto porta alla nostra vita. Dice, ogni albero si riconosce dal suo frutto, non si raccolgono fichi dagli spidi, né si vendemmia uva da un rovo. Ecco, allora, se uno vuol capire anche la mia vita, io dove sto andando, basta guardare che frutti porta la mia vita, qual è, cosa produce, le mie azioni, il mio stile di vita, anche le mie parole, ma anche il mio comportamento concreto. Che cosa produco? Dice Paolo nella lettera ai Galati, ci sono i frutti dello spirito e le opere della carne, le opere dell'egoismo. Produco divisione, produco indifferenza, produco egoismo, o produco amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, dominio di sé? Queste sono le parole di San Paolo. Quando San Pietro vuole descrivere in una riga la vita di Gesù negli Atti degli Apostoli dirà Gesù di Nazareth è passato in mezzo a noi facendo del bene. Ecco, sarebbe bello che alla fine della nostra vita i nostri amici dicessero è passato facendo del bene. Mi auguro e vi auguro che questo possa essere detto anche di noi. è passato facendo del bene. Grazie a tutti.